Ecco, visto che ci sono, approfondisco il concetto dello sculpting minimale low poly che rispetto a come abbiamo visto con il high poly in cui si usava lo sculpting però facendo sculpting qua in realtà non era facile da controllare almeno con questa struttura perché ci sono pochi vertici io suggerirei di essere in modalità layout e di usare come detto prima la modalità questa che è la modalità smooth, non mi ricordo che cosa comunque questa modifica proporzionale degli oggetti questa modifica proporzionale degli oggetti è molto interessante perché permette di modificare in maniera un pochino armonica perché se andate normalmente a selezionare un punto e poi lo cercate di spostare con G vedete che sposta solo quel punto, no, no, in realtà sta già modificando adesso lo vedete con il sistema proporzionale che è abilitato se io lo voglio disabilitare basta che prima O, in teoria una volta era O adesso probabilmente è diverso e un po' se me lo dice qual è, scorciato è O quindi sarebbe O quindi O, ok, si spegne quindi nel momento in cui era spento con G praticamente vedete che si muove solo il vertice mentre invece con O abilitando questo sistema qua praticamente modificando questo vedete che muovendo la rotellina posso muovere anche altre cose quindi lui produce, cioè muove anche gli altri vertici cercando di rendere una specie di struttura elastica per quello che è possibile quindi il risultato diventa un filo più armonico poi chiaramente più vertici ci sono e più può essere adeguato quindi questo per chi non l'avesse mai visto è il modo in cui funziona il proportional editing che permette di fare questi movimenti queste altre opzioni indicano quanto coinvolge gli altri punti e direi che va bene il default quindi non toccatelo e quindi è tutto per la pillolina sul proportional editing mmm grazie a tutti